La nuova legge sugli appalti è una nuova manifestazione della precisa volontà di Papa Francesco di sentirsi parte attiva della comunità internazionale e di recepire le migliori regole e le migliori prassi elaborate dalla comunità stessa e che sono fondate nella materia degli appalti sui principi della trasparenza e sulla garanzia della concorrenza. I fini che la nuova legge si prefigge di raggiungere sono una maggiore economia di gestione e quindi una dei migliori risultati economici, una gestione efficiente delle risorse specialmente in questo momento di difficoltà e di crisi per tutto il mondo e anche per la Santa Sede e lo Stato della città del Vaticano, un rinnovato, deciso impegno contro la corruzione, tante volte al centro dei discorsi e degli interventi di Papa Francesco. L'introduzione di nuovi diritti, di nuovi obblighi nel settore così delicato come tutti sappiamo degli appalti richiede naturalmente anche l'attribuzione della competenza a un giudice che possa intervenire, regolare i conflitti fra le parti, assicurare l'osservanza dei diritti e degli obblighi. Secondo regole che devono essere anch'esse nuove perché nuova è la materia che viene disciplinata. Questa competenza è stata attribuita al Tribunale alla Corte d'Appello dello Stato della città del Vaticano e questa decisione costituisce una nuova manifestazione di fiducia da parte del Sommo Pontefice nei giudici vaticani e da parte nostra ci sarà certamente tutto l'impegno per meritare questa fiducia. Grazie.